Perché per migliorare i propri risultati economici, come prima cosa, bisogna concentrarsi sul mind. Ciao e benvenuto all'intro di un nuovo video qui su questo canale. Mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, iscriviti, attiva la campanella delle notifiche per non perderti i prossimi contenuti che pubblicherò, ma soprattutto lascia un like a questo video se vuoi vedere ulteriori contenuti che riguardano il mindset applicato alla cresce aziendale, allo scaling, alla delega e tutto quello che ruota intorno al percorso di un imprenditore. Se invece non mi conosci, il mio nome è Roberto Maria Vadalà e sono alla massima autorità in Italia in tema di riprogrammazione mentale. Sono un consulente certificato della società di Bob Proctor, sono l'unico consulente italiano da aver ricevuto il riconoscimento di Silver. Sono uno studente di successo di Bob Proctor, l'unico studente italiano che ha rilasciato un'intervista sui canali ufficiali. In quell'intervista ho raccontato quelle che sono state le tappe salienti che mi hanno portato da 0 a 100.000 euronetti al mese. E sono ovviamente il fondatore della VMR Consulting, azienda leader nel mercato della formazione specializzata nell'applicazione della riprogrammazione mentale al B. Quello che facciamo in parole povere è accompagnare ogni singolo imprenditore in un percorso che combina il meglio del mindset e il meglio delle strategie, non soltanto per costruire un business ma ovviamente per scalarlo e farlo crescere. Ecco, in questo video mi vorrei proprio soffermare su quello che è un po' un punto dolente per tantissimi imprenditori là fuori che purtroppo per loro non riescono a migliorare i loro risultati. Ti tengo subito a fare una premessa. Qui io mi sto rivolgendo in questo video a qualunque tipo di imprenditore indipendentemente da quello che è risultato che sta avendo in questo momento. Per cui potresti essere all'inizio, potresti magari già guadagnare una certa cifra, magari potresti guadagnare cifre molto importanti, però sappi che questo contenuto ti sarà assolutamente di aiuto perché qualunque percorso di qualunque imprenditore si caratterizza sempre per lo stesso andamento. C'è un momento di crescita, che è il momento in cui ovviamente le cose vanno tutte per il verso giusto, sembra che tu sia inarrestabile e che tu riesca effettivamente a qualunque cosa toccare a trasformarla letteralmente in oro, e poi a un certo punto raggiungere un plateau, cioè un livello dove sostanzialmente si assestano i tuoi risultati economici, oltre quel livello sembra che tu non riesca ad andare e magari provi con tutte le sforze a superare questo livello. Cerchi di impegnarti di più, cerchi di lavorare più duramente, cerchi di fare nuovi investimenti, cerchi di aggiungere persone in azienda, insomma cerchi di fare tutto quello che è in tuo possesso per cercare appunto di sfondare questo risultato. Ma non c'è niente da fare, ecco sia proprio la sensazione che qualunque sforzo sia inutile perché si è come raggiunto una sorta di tetto, no? E quindi non si riesce ad andare oltre. Ecco, io in questo video mi voglio proprio rivolgere a tutti gli impeditori che stanno vivendo questa specifica situazione e che appunto nonostante gli sforzi non riescono a capire perché non riescono più a crescere. Questo è un punto fondamentale, tra l'altro per quanto riguarda la mia esperienza ti posso dire che è una tematica molto diffusa. Ripeto, possiamo parlare magari di situazioni differenti, di livelli differenti a seconda degli imprenditori che abbiamo di turno, però tutti gli imprenditori preso tardi si scontrano con una situazione di questo tipo. Per cui se ancora non sei arrivato a questo stato, ti invito a prestare massima attenzione perché probabilmente il contenuto che stai per vedere ti sarà di grandissimo aiuto nei mesi successivi. Ora, qual è il problema fondamentale? Perché gli impeditori raggiungono questo tetto oltre al quale non riescono ad andare. Diciamo che c'è una ragione principale che potremmo sintetizzare nel fatto che un imprenditore, soprattutto dopo che ha iniziato e completato un primo percorso di crescita, magari anche importante, tende ad avere questa sorta di presunzione di credere che ormai ha capito tutto quello che doveva capire e è riuscito a risolvere tutti i problemi che doveva risolvere, per cui il pensiero predominante è che ormai sia un percorso fatto sostanzialmente di una discesa e quindi tutto debba essere istantaneo, automatico, semplice e veloce. Ovviamente non è così. E in questo approccio, dove appunto si ritiene che tutto ciò che bisognava fare è stato già fatto, l'errore forse principale è che l'imprenditore tende a replicare le azioni, il modo di pensare, il modo di prendere decisioni, che sì ha funzionato in passato e che gli ha di fatto permesso di raggiungere certi risultati, ma che evidentemente non può funzionare nel futuro nel perseguire un obiettivo più grande. Ti faccio un esempio molto pratico per farti capire di che cosa stiamo parlando. Ecco, immagina di andare indietro nel passato a quando magari hai iniziato il tuo percorso imperditoriale, quando magari eri un dipendente che si apprestava a fare il passaggio a imprenditore, quindi le fasi iniziali che di fatto ti hanno permesso di creare il tuo business. Ecco, in quel frangente tu avevi un certo modo di pensare, avevi un certo modo di prendere decisioni, eri un certo tipo di persona che evidentemente, se poi è riuscito a creare il suo business, ha avuto ragione, perché è riuscito a superare quelli che sono gli ostacoli, i problemi tipici che si frappongono nella trasformazione da dipendente a imprenditore. Adesso che sei un imprenditore che incomincia a guadagnare, che incomincia ad avere risultati, è evidente che non sei più la stessa persona di prima. Ecco, questo esempio per farti capire che cosa, che quando raggiungerai lo step successivo, che evidentemente sarà un maggiore guadagno rispetto a quello che stai facendo in questo momento, beh, sarai ancora una volta una persona diversa rispetto a quella che sei in questo momento, rispetto a quella che hai iniziato in precedenza. Quindi, così come ti rendo conto, e sicuramente ti rendi conto anche tu, che oggigiorno, per avere risultati che hai in questo momento, non potresti in nessun modo essere la persona del passato, perché evidentemente quella persona aveva un approccio mentale che non era coerente con l'obiettivo che stai avendo in questo momento, allo stesso identico modo, il tuo io del futuro, che evidentemente ha un risultato maggiore che quello a cui aspiri, non potrà far altro che essere una persona che pensa in modo diverso, che fa business in modo diverso, che prende decisioni in modo diverso, che magari ha un rapporto con il denaro diverso rispetto a quello che hai in questo momento. Se ti è chiaro questo principio, il tema fondamentale probabilmente, che spiega perché in questo momento non stai riuscendo a superare i tuoi risultati, è che da un punto di vista razionale, quello che ti ho appena spiegato ti è chiaro, però da un punto di vista pratico non lo riesci a mettere in pratica, perché sebbene magari a livello razionale ti sia chiaro che evidentemente deve prima cambiare il tuo modo di pensare, il tuo modo di approcciarti al business, a due relazioni con il denaro, quello che però probabilmente stai facendo in questo momento e concentrarti sulle singole azioni, sulle singole tattiche, sulle singole cose da fare all'interno del tuo business. Ma il problema è questo, il problema è che magari queste azioni che stai facendo, nella loro essenza potrebbero anche essere quelle giuste, quelle effettivamente in grado di portarti a ottenere un certo risultato, ma il come le stai facendo, evidentemente detta da quella che in questo momento è la tua persona, la tua identità, il tuo mindset, che ancora una volta è molto probabilmente non coerente con il tuo obiettivo. Questo ti spiega perché la prima variabile su cui dovremmo sempre concentrarci per migliorare i nostri risultati è il mindset. E ti voglio fare un esempio visivo per farti capire ancora di più di che cosa stiamo parlando. Dal mio punto di vista la questione si risolve capendo quella che è la differenza tra il contesto e il contenuto. Il contesto è nient'altro che un contenitore, evidentemente all'interno del quale inserisci il tuo contenuto. Per cui immagina sempre di avere una tazzina come quella che si vende in questo momento. Questa tazzina è un contenitore, all'interno di questa tazzina puoi evidentemente mettere ad esempio dell'acqua e quest'acqua rappresenta quindi il contenuto, cioè le informazioni, le competenze che evidentemente utilizzi ogni giorno all'interno della tua attività. Ora, che cosa succede? Che in qualunque percorso ogni persona fa delle esperienze, studia, impara, acquisisce informazioni, acquisisce competenze e quindi via via riempie il suo contenitore. Ora, sicuramente ti è già capitato in passato di vivere una situazione del genere. Qua succede quando il contenitore è completamente pieno? Qua succede quando la tazzina è piena fino all'orlo? Beh, quello che succede è che se tu provi a versare dell'altra acqua, quest'acqua ovviamente straborderà dalla tazza, perché la tazza è piena, non può più contenere ulteriore liquido. Ecco, questo è quello che sta vivendo in questo specifico frangente. Il tuo contenitore è pieno all'orlo, la tua tazzina è completamente piena ed è questo il motivo per il quale non riesci ad essere ricettivo di tutte quelle informazioni, tutte quelle competenze, tutte quelle esperienze, tutte quelle decisioni che ti servirebbero per andare avanti nel tuo percorso, per crescere, per migliorare i tuoi risultati economici, per migliorare il tuo business. Quindi la prima cosa che dovresti fare piuttosto che concentrarti sul versare altro contenuto all'interno di una tazzina che evidentemente non è grande a sufficienza, quindi acquisire informazioni e competenze, beh, quello che dovresti fare è cambiare tazza, cambiare contenitore, avere un contenitore più grande di quello che hai in questo momento, dove evidentemente c'è più spazio per essere ricettivi di tutto quello che serve in termini di informazioni e competenze per poter cambiare, in prima battuta come imprenditore, conseguentemente per poter cambiare le tue azioni. Ecco, questo esempio visivo che spero ti rimanga facilmente impresso ti serve proprio per capire quello che è il primo step al quale evidentemente devi andare incontro. Questo step è ciò che volgarmente viene definito cambio di mindset, quindi passare da una tazzina più piccola ad una tazzina più grande, perché di fatto la tazzina rappresenta questo, rappresenta il tuo mindset, quindi quell'insieme di idee o se la volessi notare da un punto di vista tecnico, quell'insieme di abitudini che sono presenti all'interno della tua mente subconscia che determinano il modo in cui vedi te stesso, ma soprattutto il modo in cui rappresenti la tua realtà. Voglio darti qualche piccola informazione tecnica senza tiriarti ulteriormente, ma perché evidentemente ti serve avere qualche informazione più pratica, perché non basta chiaramente l'esempio della tazzina, ti serve qualche cosa in più per poter apportare il cambio. Ecco, dicevo che la tazzina metaforicamente parlando rappresenta il tuo mindset e da questo punto di vista ci sono due elementi salienti che devi sempre tenere in considerazione per assicurarti che il tuo mindset sia coerente con l'obiettivo economico con il percorso di crescia che vuoi perseguire. Da una parte abbiamo la self-image, quindi quell'insieme di idee che riguardano te stesso, quell'insieme di idee che vanno a determinare cosa tu credi di essere in grado o meno di poter fare come persona o come imprenditore in questo momento. Quindi la domanda che ti vorrei porti in questo momento è rispetto all'obiettivo di crescia che ti sei prefissato, tu ti senti realmente in grado di perseguirlo e di raggiungerlo? Cerca di rispondere in maniera sincera e onesta, quindi non razionalizzare. Dico che questo è un aspetto molto importante da non sottovalutare soprattutto se sei un imprenditore che ha già fatto un percorso di crescita perché quando una persona non riesce ad avere risultati ed è ad esempio all'inizio quindi ha raccolto vari fallimenti evidentemente è più facile per questa persona fare introspezione, essere onesto con se stesso e dire sì, effettivamente non mi vedo non mi sento in grado. Un imprenditore che invece ha già raccolto risultati tende ad avere ancora una volta quella supponenza, quella certezza che ovviamente per certi versi è anche un aspetto positivo ma per certi versi è un aspetto negativo che lo porta a credere di aver fatto in termini di crescere tutto quello che doveva fare. Non è assolutamente così, non si smette mai di imparare, non si smette mai di crescere, non si smette mai di migliorare anche perché e qui devo ovviamente richiamare legge universo, in questo universo tutto è in movimento, lo stato scuono esiste per cui o cresci o decresci. Quindi il primo punto fondamentale per capire se effettivamente la tua tazzina necessita di essere più grande è chiedersi se da un punto di saggi self image hai tutte le abitudini personali necessarie per essere coerente come quell'imprenditore che guadagna quel risultato economico a cui in questo momento ambisci. Ma non finisce qui perché l'altra componente che caratterizza la tazzina di ognuno di noi quindi il mindset di ognuno di noi sono i paradigmi cioè quei modelli che utilizzi per interpretare la realtà che ti portano di fatto a capire cosa è vero e cosa è sbagliato cosa è giusto e cosa invece è falso. Questo chiaramente al punto di vista del business ha un impatto molto importante e in particolar modo nella mia esperienza ti posso dire che ci sono diversi paradigmi che influenzano quello che è il percorso dell'imprenditore il paradigma del business quindi il modello mediante il quale tu interpreti la tua azienda che evidentemente deve cambiare se vuoi che la tua azienda cresca un altro paradigma molto importante è il paradigma del denaro quindi in questo caso si parla della relazione che tu hai rispetto ai soldi anche questo è un aspetto molto importante è probabile che se tu devi crescere come imprenditore e vuoi quindi migliorare i tuoi risultati economici dovrai evidentemente incominciare a pensare in maniera diversa al denaro basta semplicemente pensare al fatto che devi essere più allineato a cifre superiori rispetto a quelle attuali sia per quanto riguarda il fatturato quindi gli incassi sia per quanto riguarda le spese e gli investimenti che devi sopportare magari in questo momento uno dei blocchi principali che ti impedisce di crescere è la tua resistenza a fare investimenti superiori rispetto a quelli a cui sei abituato fino a questo momento un altro paradigma molto importante è il paradigma dell'imprenditore quindi co il modello che tu utilizzi per interpretare la figura stessa dell'imprenditore ho già pubblicato altri video su questo canale che ti invito a consultare se prendiamo come riferimento un modello che ho teorizzato che è la piramide della ricchezza 2.0 saprai già che ci sono diversi profili di ricchezza ognuno di questi profili ha evidentemente delle caratteristiche differenti e se parliamo di imprenditoria questo ti fa capire come ogni imprenditore a seconda della cifra che guadagna ha nella sua mente un determinato modello mediante il quale interpreta il suo ruolo quindi paradigma dell'imprenditore è anch'esso molto importante ce ne sono ovviamente gli altri ma per questioni di tempo in questo video mi fermo semplicemente a questi che nella mia esperienza sono stati sicuramente quelli principali quindi quali sono di fatto gli step che un imprenditore dovrebbe percorrere per continuare a crescere una volta costruita la consapevolezza che bisogna innanzitutto cambiare la propria tazzina la domanda che spesso mi viene fatta è Roberto ma io come faccio a capire se effettivamente la mia tazzina in questo momento è piccola se effettivamente la mia tazzina in questo momento è stata riempita fino all'orlo quindi come faccio effettivamente a capire se ho un problema di mindset e quindi questa è la mia priorità su cui dovremmi concentrare beh ti rispondo forse in parte richiamando il contenuto che ti ho già raccontato in precedenza il tuo mindset la mentalità che hai in questo momento ti porta a riflettere all'esterno un certo risultato per cui soprattutto se ti sei reso conto che sono mesi e guadagni più o meno la stessa cifra o soprattutto se hai già vissuto in prima persona queste esperienze tra virgolette fallimentari del provare a crescere ma di non riuscirci quelli sono delle evidenze tangibili inconfutabili rispetto al fatto che tu hai bisogno di cambiare il tuo mindset nonostante questo c'è però un ulteriore strumento che ho deciso di dare gratuitamente a tutti quanti colori quali mi seguono che è un questionario che ti permette effettivamente di capire se in questo momento il tuo mindset è coerente con la crescita o meno il questionario in questione lo trovi ovviamente nella descrizione di questo link ti riporta appunto a quelli che sono i blocchi mentali dello scaling cioè diverse problematiche di mindset e relativi sintomi che si possono manifestare che ti permettono evidentemente di capire se in questo momento hai bisogno di concentrarti o meno sul tuo mindset una volta fatta questa fase di introspezione quindi una volta chiarita fatta diciamo la radiografia di quella che era tua attuale situazione in termini di mindset il secondo step fondamentale per quanto riguarda la metodologia del sottoscritto è quello della definizione cioè una volta capito che abbiamo un problema di mindset dobbiamo capire quali sono realmente le cause che determinano questo problema di mindset come dicevo in precedenza la tazzina è composta da elementi differenti c'è una self image ci sono dei paradigmi ma ci sono anche altri elementi dei quali non abbiamo avuto modo di parlare in questo video te li acceno semplicemente c'è una tematica legata all'obiettivo quindi magari in questo momento il percorso di crescia che vorresti fare non è eseguito nel modo corretto perché in questo momento non c'è da parte tua quel desiderio ardente quel senso di urgenza che veramente ti spinge a crescere anche questo è un tema molto presente soprattutto se sei un imprenditore che incomincia ad avere risultati da questo punto di vista prova a fare un po' di introspezione per renderti conto da solo hai la stessa fame di prima hai la stessa voglia di prima o incomincia a guardarti intorno e a vedere risultati nel tuo passato e quindi magari te la stai prendendo un po' più calma in questo momento e poi un altro aspetto molto importante anche su un elemento che è contato di singola tazzina sono sicuramente leggi l'universo quindi è molto probabile che se in questo momento non stai riuscendo a crescere è perché non stai applicando nel modo corretto all'interno del tuo business le leggi l'universo ora ovviamente non c'è in questo momento il tempo necessario per poter fare una disamina completa di queste cause però vorrei completare il discorso parlando di quello che poi è il terzo step quindi abbiamo parlato dell'introspezione poi siamo passati alla definizione in cui andiamo a capire le cause del tuo problema di mindset il terzo e ultimo punto è quello del cambiamento quindi contrariamente a quello che probabilmente spesso si sente in giro ossia che il mindset viene in qualche modo etichettato come un qualcosa che ha a che fare con la motivazione con la forza di volontà con la voglia di fare in realtà il mindset è un qualcosa di completamente diverso e ti dico di più è un qualcosa di molto pratico e pragmatico quindi non so se tu hai già avuto esperienze in passato spero che non siano state le solide esperienze catastrofiche come tanti aspiranti studenti hanno prima di entrare a far parte del percorso del sottoscritto perché di esercizi strampali se ne sentono tantissimi o magari non hai mai fino a questo momento nel tuo percorso non ti sei mai in questo momento preoccupato di questioni di mindset perché ce l'hai sempre fatta tra virgolette da solo ecco qualunque sia in questo momento la tua situazione sappi che quando si parla di cambiare mindset non si parla semplicemente di leggere un libro guardare un video in qualche modo motivarsi e provare ancora una volta si tratta di un vero e proprio cambiamento cioè si tratta di diventare una persona diversa da quella che sei in questo momento una persona che evidentemente è più coerente con l'obiettivo economico che vuoi perseguire e questo cambiamento si apporta ovviamente attraverso un programma di esercizi e una metodologia che ho personalmente sviluppato e che trova l'intero dei miei percorsi avanzati ora se mi rendo conto che in questo momento soprattutto se stai iniziando a capire che hai un problema di mindset che ti impedisce di scalare il tuo business e tu voglia avere maggiori informazioni non è questa la serie più opportuna però posso darti due consigli spassionati che ti invito a perseguire soprattutto se hai capito che ti ritrovi appunto in una delle situazioni descritte all'interno di questo video allora la prima cosa iscriviti al canale attiva la campanella notifiche perché ci saranno altri contenuti che pubblicherò quindi avrai la possibilità di costruire maggiore consapevolezza su questa tematica ma soprattutto l'invito spassionato che ti faccio è quello di seguire tutti i miei canali social perché sta per arrivare una novità molto importante che permetterà a tutti gli aspiranti imprenditori e agli imprenditori che stanno già avendo risultati di far crescere scala il loro business attraverso un percorso pratico pragmatico penso appositamente per farti cambiare mindset e per assicurarti di avere un mindset che sia coerente con il tuo obiettivo detto questo fammi sapere nel box nei commenti se hai dubbi domande ma soprattutto lascia un like per farmi sapere se hai voglia di avere ulteriori contenuti che riguardano ciò che ruota intorno al mindset e che evidentemente è legato alla crescita aziendale allo scaling alla delega eccetera eccetera detto questo ci vediamo al prossimo video fai il tuo gioco e come sempre al tuo successo ciao